All'Olimpico, Lazio e Fiorentina chiudono la decima giornata di Serie A Team. Ancora Lazari, slalom gigante, poi va dentro a servire Castellanos che guarda in mezzo, sterzata, cross, deviazione! E solo esterno della rete per Luis Alberto. Artur, buona avventura. Lancia in profondità a cercare lo scatto di Beltran, buono il controllo, forse con un braccio Beltran salta tutti e mette il pallone in rete. Vantaggio a Fiorentina al tredicesimo minuto, il gol di Beltran. Ora vediamo se interviene il Varo o se il gol è valido. Pallo di mano, e allora non è gol. Parte il cross in mezzo, occhio sul secondo palo, spuca! Beltran che colpisce il palo. Poi Luis Alberto prova a scambiare con un compagno, la mette in mezzo, c'è Felipe Anderson che si gira! Cosa ha preso Terracciano! Cross in mezzo del Tati, pallone per Felipe Anderson che mette giù, poi va dentro per Luis Alberto! Ancora Terracciano con i piedi! Intanto arriva il momento di Ciro Immobile. Cataldi subito in avanti a cercare Immobile, lotta con Milenkovic, poi Vessino, zona tiro, Vessino ci prova! Guarda in mezzo Petro, non c'è movimento, allora fa tutto da solo Petro che prova ad andare sul fondo, parte del traversone a centro aria, colpo di testa di Vessino, forse c'è un tocco di mano di Milenkovic. Togliamo pure forse, calcio di vigore! Parte Immobile, fischia l'arbitro, Immobile va col destro e non sbaglia! Vantaggio Lazio al 95esimo, torna Ciro Immobile e segna un gol importantissimo! Vincere la Lazio, 1-0 all'ultimo respiro contro la Fiorentina! Vincere la Lazio, 1-0 all'ultimo respiro contro la Fiorentina! Vincere la Lazio, 1-0 all'ultimo respiro contro la Fiorentina!